di come la pratica di innovazione possa stabilizzarsi. Allora, ho messo sul tavolo un'altra parola chiave, so che sto facendo un'operazione un po' spinta, ma io vorrei cercare di usare questi incontri, ed è l'intenzione condivisa con Tucci e con gli altri amici, di poter arrivare alla fine di queste giornate con una mappa, non certo un manifesto, non un documento, ma una mappa di parole chiave associate ad alcuni protagonisti, ma anche ad alcune linee di possibile sviluppo. Alcune parole chiave sono come tutte le parole, la parola è un detonatore, è proprio un pulsante, lo clicchi e esplode, si apre.